a bella 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 putti ragazzi io sono dark boy questo nuovissimo video è importante speciale 23 iscritti iscritti oggi non so parlare perché sono rimazionato questo video faremo una chiacchieratina così standard allora a che lato i video tre volte tre volte tre volte tre volte tre volte tre volte sono tanti tre volte quattro volte ho perso il conto erano due volte voi dicete mi hanno creato pure in passato quindi sono quattro volte mi hanno creato pure un'altra volta poi e adesso sono pure cinque volte perché faccio schifo adesso no secondo voi come non è arrivato a 33 no 23 iscritti grazie a voi raga ma mi voglio bene purtroppo è dark boy fita e spider man fan giulio official fan page vabbè mi dico una cosa poi perché i video degli altri youtuber tutti editati bene si tutti editati bene mi piacciono più quelli che quelli che ancora stanno iniziando tipo me dovete far felice le persone perché forse tipo io che da piccolo volevo essere uno youtuber ed eccomi qua uno youtuber che vuole avere mille iscritti un milione iscritti avvelate il suo sogno poter avvelare i sogni degli altri tipo a me che mi avete avvelato il sogno di fare queste cose tutto grazie a voi non grazie a me non solo grazie a me tutti voi tutto il mondo che discorso ossibile però vabbè fatelo adesso vi faccio il saluto dei dark voi vi faccio e lo sono scordato così 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 e boom fatelo pure con i vostri amici dark saluto sì figo il nome che volete da me allora chi guarda gli anime e chi guarda e chi guarda tipo lion gabby lorenz e altre cose slants iscrivetevi al mio canale come vi ho detto prima dovete avvelare i sogni di tutti tipo io che l'ho detto già tipo 3000 volte io che voglio arrivare un miliardo di iscritti che ci vorranno 13 anni pure pure mille anni quando sarò un vecchio anzi morirò pure spero che questo video speciale vi sia piaciuto aspettate aspettate dopo vi devo dire una cosa ho scoperto che posso fare altri minuti io volevo dire vi voglio bene avvelate sempre i vostri sogni se volete essere una youtuber fatelo se volete essere un po' di stiotto fatelo se volete essere chissà cosa fatelo basta che credete in voi credete in voi e sarete tutto ciò che volete pure un unicorno volante che sputa fuoco tutto tipo io da piccolo che volevo fare secondo voi che volevo fare secondo voi il lavoro che faccio adesso che non è proprio un lavoro è un hobby che hobby volevo fare io boh i miei amici dicono boh boh dicono tutti boh ma se guardiamo su youtube ci sono io e avete scoperto il hobby che volevo fare vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio raga secondo voi come è avvenuta la parola siao quanto finisco i video siao con la no con la s con siao con lo youtuber siao lui è un youtuber molto speciale tutti gli youtuber del mondo sono speciali spero che questo video vi sia piaciuto e siao credete in voi credete in voi che vi ringrazio grazie a tutti i tuoi vediamo